Prima della Roma, cioè tutta la città ha aspettato la nascita della Roma, è il motivo per cui al primo derby, e qui siamo tra romanisti, spero, perché non c'è bisogno di farlo, al primo derby, l'8 dicembre del 29, a casa loro, l'ottoria, c'erano su 29 mila spettatori, erano tutti romanisti, insomma, la Roma è stata un'attesa. Dicevo, una necessità di raccontare la Roma, perché appunto è un patrimonio, è un pezzo di storia della città, ma di sentimenti, e il sentimento è importante, soprattutto in questo tempo, e la necessità di raccontare, di salvaguardare la memoria, la memoria è ancora di più, se non la stessa cosa, perché soprattutto in questi tempi, dove chi si alza dice qualsiasi cosa che è buona, magari reclama scudenti,